Venerdì 2 dicembre 2022 in questa puntata unboxing andremo a scoprire cosa contiene la scatola che Goodfellas mi ha inviato grazie al Back Friday, momento atteso da noi tonsori per soddisfare lo scimpazzè che abita nella nostra anima. Benvenuti ai nuovi sostenitori e bentornati a tutti voi che dall'inizio sostenete la mia passione per la rasatura tradizionale. Come mi potete sostenere? Semplice, primo iscriviti al canale, per te gratis per me significa tanto, in quanto aumenta il mio ego, rafforza la mia voglia di continuare a creare sempre nuovi contenuti, secondo attiva la campanella, è come quando metti la sveglia per fare delle attività programmate. Vi ringrazio, andiamo a scoprire cosa c'è nel pacco, vi voglio bene, restate in salute. Iniziamo poco quanto è dichiarato nella scheda tecnica da Goodfellas. Il rasoio stiletto GAP 085, questo che vedete nel video, è perfetto per chi si rade ogni 2-5 giorni. Ha una profondità di taglio media, ma lievemente tarato verso l'alto e per questo motivo, anche se docile, questo rasoio di sicurezza non andrebbe mai preso troppo alla leggera. Andiamo a vedere le caratteristiche del rasoio. Stiletto è la prima e unica linea di rasoi in AESI 316T, acciaio titanio, ad essere prodotta in Italia. La testina 085 è progettata con una esposizione centrata alla base. Questo significa che la lametta inserita nel rasoio ha una inclinazione tale da restare sempre geometricamente in linea con la barra di sicurezza del rasoio. I fori di scolo della piastra sono larghi e favoriscono la semplice rimozione dei peli appena tagliati. Il manico stiletto, elegante e senza tempo, presenta una piccola grande novità mai vista prima. Una rondella salva rasoio in nylon O-ring preinstallata nell'avvito del manico. Questa apposito alloggio blocca la rondella impedendole di cadere. Di seguito lo schema tecnico e i dettagli del rasoio. La profondità di taglio può variare in base alla lametta da barba che si sceglierà di utilizzare. Facciamo tre esempi. Le lamette da barba caio o feder renderanno questo rasoio più incisivo. Le lamette da barba non rivestite, le stainless, renderanno questo rasoio mediamente profondo. Le lamette da barba rivestite al platino o al teflon renderanno questo rasoio ancora più docile. Misure e materiali in rasoio di sicurezza stiletto in acciaio titanio GAP 085. Materiale interamente in acciaio titanio 316T. Finitura satinata colore acciaio 316T. GAP di profondità 085 mm. Lunghezza del manico 85 mm. Peso del manico 85 grammi. Diametro del manico 13 mm. Peso testina 27 grammi. Lunghezza testina 4,2 cm. Larghezza testina 2,4 cm. Lunghezza complessiva del rasoio 9 cm. Peso complessivo del rasoio 112 grammi. Tutti i rasoi stiletto sono venuti in un'elegante confezione regalo, studiata per esaltare le qualità del prodotto contenuto. Stiletto, il rasoio di sicurezza, nasce dalla esclusiva scollaborazione tra le aziende italiane di Goodfellas Mine e miniature metalliche Rocchetti. Uno sviluppo durato ben tre anni che ha consentito di studiare approfonditivamente per creare qualcosa di davvero unico e speciale. Stiletto è il primo rasoio di sicurezza costruito interamente in Italia ad essere lavorato esclusivamente con macchine CNC di ultima generazione partendo da una barra piena di acciaio inoxe ISI 316T, acciaio titanio. Ora passiamo al pennello da barba Italian Barber di Razerock, ispirato al modello di punta classico più venduto dell'ononimo produttore con un convaggio alla bandiera italiana. Caratteristiche tecniche Peso 92 grandi circa Altezza totale 120 mm Altezza mani 86 mm Nodo da 24 mm Da oltre un anno esiste un pennello da barba sintetico che è di gran moda nella comunità degli wet shaver. Original è un pennello con cui non solo è una gioia insaponarsi, ma è un'esperienza unica grazie alla sua morbidezza di viso in fase di montaggio. Passiamo al sapone da barba 2 novembre Formato da 150 ml, interamente lavorato a mano, prodotto in Italia da Extra Cosmesi Crema da rasatura artigianale, arricchita con olio di neem Q10, elastina e burro di karité La morbida crema che si ottiene dal montaggio ha un'intensa profumazione di cipresso Inoltre questo sapone da barba non contiene essenze, ma la profumazione viene appunto data dagli oli essenziali di cipresso, rosmarino e melissa contenuti al suo interno Al nostro naso il profumo del cipresso non è pronunciato, ma è molto delicato Rimane qualcosa di verde in contorno, ma comunque molto delicato Noi abbiamo acquistato l'after Accentua il verde e il cipresso e riprende la profumazione del sapone L'essenza dichiarata dal produttore è circa del 10% Quindi mi aspetto una profumazione molto duratura Crema da rasatura artigianale The End, prodotta da Extra Cosmesi Ha una franganza, tributo a brufra verger, immesso nel mercato nel 1968 Piramido olfattiva dichiarata dal produttore Note di testa, basilico, bergamotto di calabria, limone, absitium, artesia, lavanda Note di cuore, geranio, yang yang Note di fondo, muschio di quercia, paciuli, sandalo, fava tonka, vetiver e vaniglia Per quanto riguarda l'after shave, le note che escono prerompenti sono la vaniglia e la lavanda Di contorno basilico e bergamotto di calabria Grazie, alla prossima Iscrivetevi al canale Seguite Rasatura Tradizionale Antuono State in salute Grazie, alla prossima Iscrivetevi al canale Grazie a tutti Grazie a tutti